Buonasera, buonasera, benvenuti in un'altra puntata insieme a voi con gli sdraiati, con personaggi del mondo, dello spettacolo, del cinema, dello sport, della politica, sdraiati sul nostro divano. Il primo che si sdraia con noi questa sera è Gigio Alberti, buonasera. Buonasera, ciao a tutti. Attore di cinema, di teatro, indimenticabile nella parte di Mediterraneo di fianco alla sua asina, il personaggio tuo era Eliseo? Strazzabosco. Non mi viene mai, non so perché è Strazzabosco, ma chi se l'ha inventato quel nome Strazzabosco? Non lo so, mi ha telefonato Salvatore a un certo punto dicendo che c'è addirittura uno che ha fatto un vino che si chiama Eliseo Strazzabosco. Ecco. Gli ho detto fammi avere una bottiglia. E certo, a questo punto sì, questo era lui, quanti anni fa? Questa è appunto sprazzata da Mediterraneo. Oh beh, è del 90, è del 90 Mediterraneo, quindi è passato un bel po' di tempo. E sono passati 22 anni. Perché poi l'Oscar l'ha vinto nel 92, però è girata nel 90, quindi... E l'asina dove l'avevano presa? L'asina è stato un problema enorme. Perché? Perché... Cioè, intanto doveva essere un mulo. Sì. E... Perché il suo personaggio era un maestro di sci, giusto? Un alpino. Un alpino. Un alpino. Che si è trovato in mezzo al mare e quindi era abbastanza disagio, no? Era quello forse più spaesato nella compagine di Mediterraneo e poi si è accompagnato con questa asina, che doveva essere un mulo quindi inizialmente. Doveva essere un mulo e c'era questo mulo, però poi dopo veniva ammazzato e ci voleva un mulo bianco. Sì. Muli non ce n'erano. Eravamo in Grecia, in questa isola qua. Il posto più vicino dove potevano essere i muli era la Turchia. Sì. Ma Greci e Turchi non si possono vedere. Sì. Allora, ti do il mulo ma solo macellato. Eh no. Non vivo. Eh no. A voi serviva vivo? È certo. Per cui abbiamo preso un asino bianco. Ah. Cioè, un asino che non era bianco è stato dipinto. Ah, me lo fai rivedere, Ambra. Dipinto di bianco. Quindi il muso bianco era dipinto? No, no. Questo qua era quello, diciamo, il primo. E poi c'era quello dipinto con Salvatore che è attentissimo sulle cose degli animali. No, certo. Che allora non erano così attente le associazioni animaliste. Ah, però lui, ok. Non transige. Deve essere cose che non sia fatto. Però l'attrezzista non era proprio uno molto... E per cui gli ha fatto vedere questo asino e lui l'aveva dipinto di bianco tutto. Anche gli zoccoli erano dipinti di bianco. Bellissimo. E gli zoccoli. No, certo. Non è che un asino bianco. Non può avere gli zoccoli bianchi, certo. Per cui la lavorazione dell'asino bianco è stata... Ma l'asino è un animale intelligente? Cioè reagiva? Non so se è intelligente. Non conosce il cinema probabilmente. C'era sempre l'immobile, fermo. Facendo un po' quello che gli imprendi. Io all'inizio non è che avevo tutto questo bel rapporto con questo asino. E no, infatti, perché con un cane addestrato probabilmente è più semplice. Però con un asino è più complicato. Le prime scene erano tutte in quadrature, no? Magari da un vicolo. Passa un soldato, passa l'altro, passa l'altro, passa l'altro... Tu per ultimo con l'asino. Stasino non si muoveva. Esatto, per farlo muovere. Io sentivo stop. Dicevo, ma porca miseria, io non ci so mai, perché Stasino qui non si muoveva. Perché non si muoveva. Quindi era molto difficile comandarlo. Certo. E Salvatore come vi comandava? Cioè che tipo di... No, beh, ma è un... Era più amico o era più regista? Cioè tra di voi eravate più colleghi che lavoravano insieme o più amici? Perché date l'idea di essere un gruppo di amici. Sì, sì. Però diciamo ci sono due fasi. Diciamo finché non si incomincia sia... Ah, ecco. E dopo sì, si rimane amici lo stesso. Però il rapporto è... Cioè questa scena, la scena della partita credo che sia una delle più... Ah, sì. Delle più celebri, no? Perché questa partita di calcio che fate faceva un caldo bestiale, vero? Sì. Io sono andato anche per terra uno o due volte. Ah sì, giocando questa partita? No, no. Per il caldo che fa. Eravamo vestiti tutti con le divise militari. Eh sì, che erano vere quindi. Quelle spesse così. E dopo un po' non... Quindi si soffri di pressione bassa, di qualcosa del genere. Non subito, ma chiaramente sudi, 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 sudi. Dopo un po' il corpo non ce n'ha più. Senti, che amicizie sono rimaste dopo quell'esperienza? No. Cioè è rimasta l'amicizia con qualcuno di loro? Tante. Beh, a parte... Beh, con Bisio abbiamo non cominciato assieme col teatro, però Salvatore sì, l'ho conosciuto tramite il teatro e con Bisio e Catania avevo fatto spettacoli in teatro, che vuol dire frequentarsi per sei mesi all'anno, per due, tre, quattro anni. E anche con... diciamo con tutti gli altri del gruppo, chiaramente appena finito il film, molto di più ci si vedeva. Perché si crea proprio un legame affettivo, emotivo, no? Beh, stai... Perché sei sempre insieme. Poi eravate in quest'isoletta da soli, avevate le famiglie dietro? Qualcuno, c'aveva qualcuno che era andato a trovarlo, oppure stava magari per un po' di tempo. E poi se ne andava. Tu eri da solo o avevi qualcuno con te? Da solo, da solo. Quindi tu sei stato due mesi solo con loro? Sì, 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 sì. E' un'isoletta bellissima che poi è diventata... Bellissima, però appunto non c'è niente, c'era qualche turista, perché più che altro c'è un porto per le barche, quindi ogni tanto arrivava qualcuno con la barche, ma a giugno non c'era nessuno, insomma. Poi ad agosto, perché siamo arrivati fino ad agosto, ad agosto cominciava ad arrivare gente. Il turismo, certo. Stava noi fra di noi, quindi dopo un po', poi dopo a lungo andare magari ti perdi un po' di vita. Ecco, no, ma la mia domanda è dopo 22 anni con chi hai ancora? Chi hai tenuto? Se hai tenuto qualcuno di loro? Cioè che magari vi sentite? Bisio Catania, sono come fratelli per me. Ah, ecco, vedi, quindi con loro vi sentite ancora. Sì, 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 ma spesso. E a Battantuono e Salvatore Smeno? E a Battantuono un po' meno, lo sento ultimamente, beh, lo sentirò una o due volte all'anno. Tipo quando ci sono le occasioni, i Natale, i compleanni. Sì, poi magari, adesso ultimamente avevamo fatto Regalo di Natale a teatro, che era lo spettacolo. Ah, beh, allora lì c'era un'occasione. Che lui ha fatto col film di Pupiavati. Pensando a Mediterraneo, quale emozione ti viene in mente tra queste? Qua c'abbiamo l'amore, il cuoricino, la linguaccia, la linguaccia mediterranea. No, perché, cioè, non so, questa qua la vedo come una linguaccia di godimento. Ah, ecco, la linguaccia di godimento. Cioè, una cosa di dire, beh, cioè, stai su un'isola bella, bellissima, devo dire, per due mesi. C'erano delle cose che sono impagabili, ci si svegliava presto il mattino. Si si attacca a girare alle sei, però, si andava, io, mi ricordo, scendevo al bar, ordinavo la colazione, mi tuffavo in acqua, facevo una botata alla boa, tornavo. Quando tornavo la colazione era pronta, facevo colazione, poi asciugavo e andavo a girare. E poi si andava a girare. Ma è vero che Salvatore si aveva chiesto a ognuno di voi di pensare a un contributo? Sì. Cioè, a qualcosa da mettere nel film, ma che poi in realtà non ha preso niente, ma l'ha fatto per farvi sentire partecipi. Ho detto questa cosa, è vera. Sì, 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 questa è la cosa, secondo me, è il modo con cui, come lavora Gabriele, no? Di far sentire tutti i partecipi. Far sentire tutti i partecipi, cercare di tirar dentro la gente, a parte che si arrivava sull'isola, arrivavamo tutti una settimana prima per creare il gruppo, perché poi non tutti ci conoscevamo così bene. Ah, certo, certo, certo. È vero che questi sono soldati messi insieme un po' così e sbattuti sull'isola, per cui alcuni si conoscevano bene, altri meno. Quindi era anche più realistico, certo. Però, per fare questa cosa, in questa settimana lui dice, scrivete delle cose che possono succedere al vostro personaggio. E tu cosa avevi scritto? Tu avevi scritto un pezzo? Ma sì, adesso non mi ricordo neanche che cosa. Però anche tu avevi messo la tua parte, ma l'ha buttata via. Beh, diceva, no, no, ma poi facciamo, facciamo. Beh, però è stato bravo. Che poi su un momento te la prendi anche perché ci pensi e fatica comunque mettersi lì a scrivere delle cose. E poi vedi che questo qua dice, quando la metto dentro questa roba qua, stiamo arrivando alla fine. Quando col senno di poi hai capito che l'ha fatto per il bene del gruppo? No, 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 certo, assolutamente. C'era un nobile obiettivo? Sì, sì, no, 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 ma è una tattica. Una tattica? Sì. Ma è anche in Marrakesh c'era questo affiatamento tra di voi? O meno? Marrakesh ci conoscevamo meno. Sì. Però essendo girato... E perché è venuto prima Marrakesh? Sì. Un anno prima, due anni prima? Due anni prima, mi sembra. Però essendo un viaggio fatto in sequenza, cioè siamo partiti da Milano, siamo passati in Francia, siamo andati in Spagna, poi siamo andati in Marocco e siccome questi qua erano degli amici che non si vedevano da tempo, diciamo l'amicizia che si costruisce pian piano nel viaggio corrispondeva effettivamente a un legame amicale che recupera il tempo. Ecco per cui... Possiamo sentire un pezzettino della musichina di Mediterraneo che io oggi quando preparavo questa trasmissione sentendola, cioè in effetti fa emozionare. Sì. Anche a te, no? Sì, sì. Questa musica è come era, l'aveva trovata Salvatores? Sì, sì, delle musiche si occupa, c'è sempre uno che si occupa delle musiche, però lui lavora molto. Questa è la propria azzeccata, eh? Molto su questo. Lui è perché è un particolare azzeccato questo. Sì, sì, sì. Senti, l'emozione dell'Oscar, io voglio, dopo parliamo del resto, però... È quello, devo dire, non è stata un po', perché nessuno se l'aspettava, perché c'è... Cioè, lo dico per chi non lo sapesse, Mediterraneo ha vinto il Davide Onatello come miglior film, il Davide Onatello per il miglior suono, il Davide Onatello per il miglior montatore e l'Oscar come miglior film in lingua straniera. E l'Oscar credo che sia quello più... Certo, però c'era Lanterne Rosse in concorso, che è un bellissimo film cinese, che io non ho visto. Neanch'io. Per evitare di fare paragoni, perché dici, vabbè, poi se effettivamente è una cosa così bella, dici, vabbè, è più bello quello là. È giusto così, sì, certo, certo. Invece non mi andava di fare questa cosa, dico, è capitata la fortuna di essere un film che concorre le cose, voglio dire, è più bello quello là, io voglio tenere al mio, indipendentemente da quello che c'è intorno, per cui non l'ho visto. Quando è arrivata la notizia? E quando è arrivata la notizia, è arrivata, tipo, a noi erano le quattro e mezza di mattina, le cinque di mattina. Eh sì, per il fuso orario. Noi eravamo in uno studio di Canale 5, alcuni, perché alcuni erano... Alcuni erano là. Alcuni erano là. A Batantone era di Conugo Conti, credo. Sì, perché loro stavano girando in Messico. E quindi sono andati proprio a ritirarlo. Qualche d'uno è rimasto in Messico e quelli italiani erano andati, diciamo, a alcuni, in uno studio di Canale 5, dove seguivano tutta la serata, che è eterna. Dopo un po', almeno io, non ne poso le premiazioni. Certo, certo. Cioè, giusto le Olimpiadi, ecco, se c'è un italiano, se no, sono una noia mortale. E quindi è arrivata la premiazione, dimmi la prima emozione che hai avuto. Belli. Ah, qua, dove è una faccia che non ci crede. E non c'è. Non c'è. Questa può sembrare, forse. No, così sembra che hai... Che è quasi paura. Però non ci credete. Non ci potevo credere, perché veramente era come un cavallo dato, non lo so, a dieci con degli altri cavalli dati a due. Certo. Non ci avresti mai scommesso prima. No, no, ero quasi sicuro che non... Ah, tu eri quasi sicuro di no. Sì, che non l'avrebbe vinto. Poi sai, quando fai una cosa, non hai la sensazione. Poi non era un film ricco, era un film povero. Ti sei mai chiesto, poi dopo devo fermarmi, ti sei mai chiesto perché ha vinto l'Oscar? Perché un po' corrisponde probabilmente alla visione che gli americani hanno dell'Italia, un posto bello, pacifico, tranquillo, dove la gente... Cioè c'è una guerra, perché il periodo era di una guerra e invece questi la guerra non la facevano. Giocavano a pallone, sì sì. Erano stati esclusi dalla guerra, per cui messi in quest'isola di... Bellissima. Di pace con questa guerra era dimenticata, dimenticarsi della guerra, insomma. E credo che a loro questa cosa qua... Cioè il qua, lo stereotipo un po' dell'Italia. Eh, beh, un pochettino dentro c'è. Va bene, parliamo anche di questo, ma parliamo anche di altro, perché Gioalberti non è ovviamente solo mediterraneo, però all'inizio mi sembrava giusto farlo su quello, perché c'è anche il teatro e poi voglio sapere tante altre cose su di lui, sdraiatissimo a tra poco. Allora, rieccoci, siamo sempre con Gioalberti, abbiamo parlato di Mediterraneo, che credo che quante volte ti fermano per strada o ti hanno fermato dicendo di italiani e greci, stessa razza, stessa faccia? No, parecchio. Parecchio ancora? Beh, è chiaramente un po' di meno, però incontro un sacco di gente che dice, ah, io ero su tutte le battute a memoria, eh, io ormai non le so più. Tu ormai non le so, eh sì, perché noi lo rivediamo il film, tu l'hai fatto una volta. No, sono quelli che dicono, ah, no, io ogni anno almeno, prima delle vacanze ci troviamo tutti, guardiamo Mediterraneo, Maracchese Espresso. Ah, guardare Mediterraneo, eh, vedi, si ha vinto l'Oscara, insomma, sono film fortunati. Un motivo c'è, sì, sono film fortunati. Senti, cinema o teatro? Adesso poi parliamo del tuo spettacolo. Difficile dire, io sono nato col teatro alla fine, poi siccome sono lento, il teatro ti dà la possibilità di, cioè provi un mese, quindi pian pianino costruisci il tuo personaggio e poi la soddisfazione ce l'hai, cioè se una cosa viene bene, veramente bene, ce l'hai subito. Sì. È immediata. Un film viene bene, però quando viene bene magari sono passati sei mesi, otto mesi, tu stai già facendo un'altra cosa. con il pubblico, ti piace il teatro anche perché hai il pubblico davanti, quello. Eh, ma avere la soddisfazione di vedere una cosa che è venuta bene subito ti dà un'adrenalina che... Quanto ha patito il Covid col fatto che il teatro e i teatri erano chiusi? Tanto. Eh, tanto. Eh, beh, non c'è, non si poteva fare altro in qualche modo, però ha patito tanto, ci sono tante situazioni che hanno sofferto e che continuano a soffrire perché una volta, adesso stava per aprirsi un po', si sentiva un po' questa cosa qua, adesso è arrivata quest'altra ondata che quindi la gente ha un po' paura. Però la gente secondo te ha voglia di andare a teatro, di andare al cinema, voglia, cioè io credo che ci sia un desiderio, basta, no? No, 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 ma adesso... Di voltare pagina. Ho visto anche teatri pieni, tutto con la mascherina, che chiaramente è più un fastidio stare con la mascherina tutto il tempo. Però è sempre meglio che stare a casa. Sì, sì, no, no, c'è voglia. C'è voglia di ripresa. Qua si percepisce proprio, sia da parte del pubblico che da parte di chi lo fa. Vostra. Come al solito, ti tolgo una cosa... Un'emozione per la ripresa dei teatri aperti? Eh, siamo di nuovo qua come godimento. È sempre quello è un godimento, ok, per il teatri aperti. Senti, allora diciamolo subito, dal 16 al 27 febbraio al teatro Outoff in via Mac Mahon a Milano, il nuovo spettacolo con la regia di Lorenzo Loris, Zitti Tutti. Sì. Zitti Tutti è lo sfogo di un uomo che ha un po' di nevrosi, no? Si ribella ai suoi problemi. Si è andato male ultimamente e per cui è praticamente rinchiuso dentro un... Lui lo dice che è un suo studio, è come se fosse casa sua, però un po' separato dagli altri. E sta lì, sta lì, così come siamo stati lì noi chiusi in casa per due anni. Un riferimento, sì. E stando a casa, rimugini le cose, più rimugini, più diventano grosse, più diventano grosse. E lui attacca a parlare, per sfogarsi e non si ferma più. Parla, parla, parla. Per un'ora, per un'ora consecutivamente di tutto quello che non gli va, la famiglia, i figli, le cose, il paese, l'immigrazione, l'immigrazione, la scuola. Quindi sia le cose private che il sociale, tutto. Tutto, sì. E alla fine di questo sprologo chi chiede il silenzio. E infatti si intitola Zitti tutti. Zitti tutti perché dice che la gente parla troppo, adesso basta, lui vuole il silenzio. E poi si rende conto che deve essere lui che sta zitto, che tutto questo parlare, tutto questo buttare fuori, alla fine non gli fa bene. Ed è un monologo bellissimo, scritto da Raffaello Baldini, che è un poeta romagnolo, è morto dieci anni fa, contemporaneo. Quando dico poeta, poi ho sempre paura perché la gente dice, oh poeta, la poesia. No, questo qua è un poeta, nel senso che riesce, infatti Soldini ha fatto un documentario su questo poeta bellissimo, che si chiama Treno di parole. Se si capita, guardatelo perché è bellissimo. E lui dice, una signora si è fermata, mi ha fatto i complimenti, ha detto, è bella le sue robe, non sembra neanche poesia. Come perché? Che la poesia è una roba brutta. È felicissimo, perché dice questo per me è il complimento più grande, perché la poesia è riuscire a trovare nelle cose di tutti i giorni il modo di vederle in maniera leggera e profonda nello stesso tempo. E' quello che Baldini fa con una facilità incredibile. Per cui sentire parlare questo uomo è come vedere un cervello che si muove, una cosa dietro l'altra, una cosa dietro l'altra. E' sempre guardando le cose con un punto di vista che non ti aspetti, ti spiazza continuamente, quindi diventa anche divertente. Certo, ne parleremo anche nella nostra rubrica teatrale che va in onda tutti i martedì. Comunque intanto vi ricordiamo appunto dal 16 al 27 febbraio il teatro out of zitti tutti. Allora, adesso ti faccio qualche domanda su di te. Quando eri bambino che lavoro volevi fare? Sì, devo pensare, ho pensato un po', perché oltre alla destra del Milan... L'ala destra del Milan, ah! L'oceanografo, tipo questo. Queste cose qua di avventura, mare, le cose... Bellissimo, non c'entra nulla con quello che fai? Niente, non c'entra assolutamente nulla. A un certo punto hai capito che quello non avresti fatto l'oceanografo. Che non l'avrei fatto. Sì. Non che non mi sia pentito di non averlo fatto. Eh, infatti ti volevo chiedere, se rinasci un'altra volta, rifai l'attore o fai l'oceanografo? Far l'attore è bello, anche se già hai i suoi alti e bassi, perché ci sono gli altri, ma ci sono anche i bassi, ecco. Però l'oceanografo continua a piacermi. Ma hai più rimpianti o più rimorsi nella tua vita? Eh, non lo so. Eh, bella domanda. Bella domanda, sì. No, uff. Cioè, rimorso. Beh, forse più... Perché rimorso, secondo me, ti devasta di più, perché è una cosa che hai fatto che dici no, non la dovevo fare. Certo. Rimpianto ti metti un po' di malinconia, avrei potuto fare quella cosa. Qualche rimorso e tanti rimpianti. E tanti rimpianti. Tanti rimpianti, perché poi alla fine la strada ne prendi una, no? Eh, sono delle slime indoors. Sono rimpianti, cioè... Certo. Ma se ce n'è uno, un rimpianto che hai da parte l'oceanografo, c'è una scelta che non ha, una strada che non hai preso, che adesso alla tua età dici, beh, forse avrei potuto prenderla, avrei potuto fare quella cosa. Ma... forse... forse i figli, ecco, no, no, no. Tu non hai figli? No, non ho figli. Ecco, cioè, quello è un rimpianto che ci può stare, di non aver avuto dei figli. La curiosità di vedere come sarebbe stato... Certo. Come sarei stato come padre, come sarebbero stati loro. E quello è un rimpianto importante. Sì, sì. Meglio l'amore o l'amicizia? Eh, diciamo che l'amicizia è più facile dell'amore. Ah, beh, però mantenere un'amicizia non è così semplice, è un'amicizia importante, no? Però io lo trovo... È meno impegnativo? Forse mi viene più facile, ma io non lo so. Mi viene più naturale, insomma. L'amore è più... È più complicato? Un po' più complicato, sì. Tu hai una moglie, una famiglia? Ho una compagna, sì. Hai una compagna, da tanti anni? Da 4-5 anni. Ah, beh, non è tantissimo. No, 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 tantissimo. Hai cambiato tante donne? Buone, ma neanche da solo un singolo incambito. Ah, sei un singolo incambito. Ah, allora per quello che dici l'amicizia è più facile. Sì, forse sì, perché... Cioè, è una cosa che ho frequentato di più, ecco. Hai mai tradito un amico o una fidanzata? Sì. Più le amiche, cioè più gli amici o più le fidanzate? Eh, beh, più le fidanzate. E sei stato tradito? Sì, sì. Peggio tradire o essere tradito? No, peggio tradire. Ah, bello questo. Peggio tradire. Sì. Ma sei stato scoperto quando hai tradito? Eh, sì, sì. E sono volati i piatti? Sono volati i piatti, valigie fuori dal pianerottolo? No, 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 no. Non cose così. La cosa è rientrata? Sì, sì. E quando hai tradito tu? Scusami, e quando sei stato tradito tu? Cioè, che cosa... Quando ho tradito io? No, se sì. Ah, quando sono stato tradito io. L'hai scoperto? O se l'hanno detto? No, me l'hanno detto E cosa si prova? Beh, è pesante però ti chiedi anche il perché Ah, bello Questa è onestà intellettuale Se è successo Vuol dire che in qualcosa sei mancato tu Cioè serve per farsi un esame di coscienza Eh, credo di sì Perché comunque Invece se tradisci tu Insomma è più pesante Senti, poi mi devo fermare Ma qual è la cosa Che ti piace di più del tuo carattere? Ma... Cioè la cosa che ti piace di più di te? Tu dici Ho il rimpianto di non aver avuto un figlio Se avessi avuto un figlio cosa avresti voluto trasmettere A un figlio? Di te Non è che sono uno semplice Però non sono per niente semplice Sono un nevrotico Si vede Però sono un po' uno che dove mi metti sto L'adattabilità Sì, sì Ah, ecco questo è il tuo pregio Dovunque mi metti Cioè poi mi arrangio Sì, ma questa è una virtù E invece il lato negativo è il tuo difetto peggiore? Oh, la testa lavora troppo Ah, la testa lavora troppo Sì Cioè ti fai mille menate Ha detto a quest'ora di sera si può dire Sì, la vita Dici però se facevo quello era meglio Un continuo movimento che ti rovina Cioè non... Molto più easy Ecco se dovrei cambiare Quindi se nasci un'altra volta vorresti essere un po' più easy Sì, sì Tantissimo più easy Molto chiaro Va bene C'è ancora un po' di pubblicità Poi ci ritroviamo Vediamo di scavare ancora di più In Gigi Alberti A tra poco Non ho trovato niente Non c'è niente da scavare Rieccoci, rieccoci sempre con Gigi Alberti Stiamo un po' analizzando la sua figura Ti devo chiedere una cosa culinaria Ti piace mangiare? Sì, sì Però non sono un palato fine Ecco Non ho la cosa di dire Mi piace ma mi piacciono... Qual è il tuo piatto preferito? Ma io per me potrei andare avanti a pane e vino Cioè io quando... Pane e vino, no? Che tristezza No, invece è una roba di... Io quando mi siedo a tavola Siedo al ristorante Quando si incomincia a mangiare Io ho già fatto fuori due cestini di pane Ma vino rosso o bianco? Bianco preferisco Fermo o frizzante? Fermo Fermo Tipo il vermentino? Sì Ma tutti i vini secchi Ok Andiamo indietro Quando eri piccolo Quando eri piccolo Che merendina mangiavi? Fuori casa Mi ricordo del ciocuri Il ciocuri E in casa Perché in casa merendine Non ne entravano Quindi era pane e burro marmellato Pane, olio e sale Pane e burro solo Ok, me rende semplici Sì Me rende semplici E invece Sempre andando indietro Il tuo cartone animato Di quando eri piccolo? A me faceva riderissimo Non so se c'è un nome italiano Perché non me lo ricordo Daffy Daffy Quel papero nero Ah, questo qua Che adesso lo vediamo adesso Questo qua? Sì Io non me lo ricordo Però c'è anche Tommy e Jerry Sì, c'era anche Tommy e Jerry Ok, erano i tuoi cartone animati preferiti Ma come parlavo con il papero lì Mi facevi impazzire Senti, ma invece Quando eri piccolo Avevi un poster in camera? Sì Che cosa avevi? Panatta Panatta? Sì Ah, quindi ti piaceva giocare a tennis O lo guardavi e basta? Giocavo a tennis Anche se è uno sport Sembrava che non fossi neanche così malissimo Ma La questione è la testa Nel tennis? Sì La testa per chi gioca a tennis Credo che sia fondamentale Cioè Io appunto che dicevo prima la complicazione Giocavo a tennis Se stavo vincendo Dicevo Poi dopo se magari Non riesco a vincere Se stavo perdendo Dicevo Ah, ormai ho perso Quindi Conta tantissimo la concentrazione Quello che pensi Certo Ma Adesso invece come squadra Hai una squadra di calcio Segui uno sport adesso? Sì, ho sempre avuto una squadra di calcio Che è il Milan Io ero Quindi dopo il derby sei molto felice Dopo il derby della settimana scorsa Hai fatto di tutto? Sì Sì E il campione di quando eri piccolo A parte panatta Avevi un campione calciatore? Il calciatore Erano Rivera L'ho detto Eh sì Cioè il Milan Comunque Tutti i calciatori del Milan Sì Ma vai allo stadio? Ci sono? No Adesso ormai è tanto che non ci vado più Ci andavo Ci andavo, sì Senti Senti Adesso lasciamo lo sport Torniamo all'analisi su di te Ti sei mai fatto una canna? No Dai Dite la verità A quest'ora Vabbè Non posso dire io Non mi sono mai fatto una canna Beh beh Però io la domanda la faccio Poi uno mi risponde Sì tante volte Sì poche volte C'è gente che mi fermava per strada Facendo Marques Espresso Eh dopo Marques C'è la fumo Come quella di Mediterranea Beh però Quello è l'attore Sì però sì Però sì Sì Hai mai rubato? Quando eri piccolo? Sì Quando eri ragazzino Cosa rubavi? Boh, piccole cose. Tipo? Ma non lo so, fesserie, pepene, cose... Tipo nelle cartolerie o nei supermercati? Sì, nei supermercati. Quanti anni avevi quando facevi questi furtarelli? Non lo so, boh, 10, 11... Ah, proprio un bambinetto. Ma ti hanno mai beccato? No, a me no. Ho beccato un amico che sta con me. E cosa gli hanno fatto? Niente, l'hanno fermato lì, l'hanno tenuto lì un po', poi dopo l'ho fatta andare via. Ah, beh, però chissà che paura. Credo che non abbia più rubato. Quando pilla, la strizzo una volta, dopo non lo fai più. Senti, cos'è che ti spaventa nella vita? La morte. Più della malattia? Ah, che bella scelta. Eh no, perché sai, è diverso, eh. Sai cosa diceva Epicuro? Se c'è la morte non ci sono più io. Certo. Quindi perché devo avere paura della morte? Invece la malattia ci sono. No, no, certo. Cioè ti do uno spunto di riflessione. Diciamo che la malattia mi fa, ecco, la malattia mi fa paura. La morte non l'accetto proprio. Cioè la malattia la capisco, ma mi fa paura. La morte? No. Non accetti la morte? Non capisci la morte? No. È qualcosa di sbagliato nella natura? Sì. Sì. Non so qual è la soluzione. Dice, ah, vivere in eterno. Eh. Non lo so. Ma ti piacerebbe vivere in eterno? Non lo so. Forse mi stancherei. Eh, esatto. Però la morte non l'accetti. Interessante. Senti, chi è la persona più importante che hai perso? Eh, mamma e papà. Mamma e papà. Mamma e papà, sì. E per questo che non accetti la morte? Sì. Perché hai sofferto molto? Quanti anni avevi? No, no, beh, sono successe tutte e due, adesso non dico proprio recentemente, però... Però eri già bello adulto? Sì, dieci anni fa. Ok. Sono dieci anni fa, non... Sì, quindi non ti sono mancati quando avevi più bisogno, quando eri piccolino? È stata una cosa naturale, insomma. Sì, 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 però siccome sono arrivati tramite... Malattia, anche lunga... Sì, quindi sofferenza. Per cui è come se... Cioè, li ho tenuti fino a un certo periodo. Sì. Poi li ho lasciati, me ne sono andati un po' per i fatti miei, eccetera. Non volevi accettare... Non è che avevo un rapporto così... Ah, ok, tu sei figlio unico, hai fratelli e sorelle. No, no, siamo in tre. Ok. E poi con la malattia invece mi sono molto, molto riavvicinato a loro. A tutti e due. Gli ultimi anni che hanno fatto li abbiamo fatti... Gli hai accuditi. Sì, molto assieme, quindi... Ed è lì che hai colto questa cosa che la morte non ti va giù. Sì. Eh, sì. Ma tu credi in Dio? No. No. Ma non lo sai o proprio ritieni che non ci sia? Cioè, hai una posizione altra o agnostica? No, io ritengo che non ci sia. Che non ci sia e c'è il caos? C'è il caso? Non dispiacerebbe, devo dire, se ci fosse, non mi dispiacerebbe niente. Perché pensi che non ci sia? In qualche modo c'è qualcosa che non finisce, no? Sì. Poi ci sarebbe un senso, no? Nelle cose. Ti aiuterebbe anche a trovare quello, insomma. Però faccio fatica a... Pensi che sia più probabile di no? Sì. E gli UFO? Ci sono gli alieni? Cioè, siamo solo in un universo o no? Anche quello. Io faccio fatica a crederci. Non so, cioè, non ho... Non ho una grossa fantasia in questo senso qua. Sì. Cioè, non riesco a immaginarmi proprio... Può darsi che ci sia qualche cosa, ma magari qualcosa di... Di immateriale, di non... Uno, sì, UFO si immagina sempre qualcosa di simile a... Sì, un essere vivente, magari con quattro braccia, però... Cioè, se no, con quattro braccia, otto braccia, due teste... Certo. Cioè, quello assolutamente no. Quello non te lo vedi. Qualche cosa che magari non è... È più probabile che sì, che non che no. Perché essendo un universo... Cioè, ti sembra poco probabile che siamo gli unici nell'universo? Così. Ragionando cose, dici, no, insomma, talmente grande ci sarà qualche cosa. Per il calcolo della probabilità, ti dici. Ci sarà qualche cosa altro. Però io faccio fatica a... A immaginartelo. Sì, faccio fatica a crederci. Ma ti piacerebbe vedere, se ci fossero degli alieni, vederli? Sai che ogni tanto qualcuno dice, li ho visti. Cristian? Ah, certo. Beh, non lo so, perché dopo, quando hai visto quelli, non lo so... Dopo non torni più indietro. Se ti... Quanto ti cambia... E la vita dopo la morte? Cioè, tipo di reincarnazioni o cose di questo genere? Beh, guarda, se vedo un alieno comincio a credere anche alla vita dopo la morte. Ok, ma no, per questo te lo chiedo perché quindi non sei un materialista convinto. Cioè, tu stai dicendo, magari c'è qualcos'altro. Ho detto, mi... Io faccio fatica a credere. Mi piacerebbe molto. Ok, diciamo che sarebbe un tuo desiderio. Sì. Però non ci credi. Eh. Ok. Senti, cosa bisogna avere nella vita? Eh, cosa bisogna avere? Fortuna. Fortuna, ok. Tanta. Tu l'hai avuta? Beh, in tanti settori credo di sì. Perché poi sì, 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 sì. Fortuna e poi un'altra cosa che bisogna avere? Capacità di adattarsi. E quella ce l'hai, tu hai detto. E cosa non bisogna avere? Spocchia. Ah. Questo secondo me è proprio... Supponenza. È meglio volare bassi perché poi... Anche se sei sempre un... Bello questo. Cioè, un minuscolino. Una formichina. Insomma, qualsiasi cosa tu fai, sei sempre un... Quindi no spocchia, si adattabilità, si fortuna. Dimmi un'altra cosa no. Bisognerebbe avere in quello... Cioè, tanta voglia. Voglia di fare. Voglia di vivere, di fare. Ah, bello questo. Cioè, volontà. Quella che è la volontà di Schopenhauer. Sì, sì. Bisogna averla. Voglia proprio di... Ah, è bello questo. Come di mangiarsi la... Sì, sì, sì. Cioè, non lasciarsi vivere. Eh... Ma vivere le cose. Lo dico perché io ogni tanto invece... Quindi è una sprone anche per te. Sì, sì. Va bene. Io ringrazio tantissimo Gigi Alberti. Se volete vederlo in teatro, andate dal 16 al 27 febbraio al Teatro Outoff a vedere zitti tutti. Intanto ti ringrazio di essere stato con noi.